Musica Abbiamo rimesso a nuovo il Teatro Giovanni Branca a Sant'Angelo in Lizzola, l'abbiamo inaugurato e faremo in modo che insieme anche al Comune di Pesaro, che ha le frazioni proprio confinanti con Sant'Angelo in Lizzola cioè Ginestretto e Monticicardo, fare in modo che rientri nella programmazione delle attività teatrali per i gruppi musicali, cinema, teatro auditorium per la musica, danza, per le scuole che ci sono in quella parte del territorio quindi un teatro carino, 150 posti, reso antisismico, ignifugo, quindi come oggi richiedono le nuove norme quindi un'attività teatrale importante, stiamo lavorando per iniziare i lavori a breve del Teatro Giovanni Santi a Bottega di Vallefoglio, in fondo via Libertà vicino al Polo Scolastico che sarà il teatro di questa vallata di circa 50.000 abitanti perché i comuni confinanti non hanno un teatro e quindi probabilmente sarà utilizzato dalle scuole perché è un tiro di schioppo da Pian del Bruscolo dove ci sono 600 alunni delle scuole medie ma da tutti i poli scolastici di questa vallata quindi cinema, teatro, musica, compagnie dialettali, cori tutti quelli che hanno diciamo delle attività che hanno a che fare con la musica, col teatro, col cinema e con le scuole c'è sempre più un'attenzione di mettere a disposizione degli spazi per le attività culturali, teatrali, musicali rivolte soprattutto alle nuove generazioni grazie 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 a tutti